Sciopero regionale martedì 11 febbraio dei lavoratori cosiddetti ex LSU e appalti storici nelle scuole abruzzesi di ogni ordine e grado impegnati negli appalti di pulizia e servizi ausiliari come la vigilanza, indetto da Filcams CGL e la Fisaskat Cisle regionali e contro la situazione in cui versano i lavoratori 834 rischiano in regione di perdere il lavoro. Dal 1 marzo infatti dovrebbero essere applicate le nuove normative relative all'affidamento di risorse notevolmente ridotte dopo i tagli già applicati. In Abruzzo i lavoratori che rischiano di dover lavorare meno in termini di ore e di subire una riduzione del compenso o nella peggiore delle ipotesi di perdere il posto sono 834 a fronte di circa 24 mila in Italia. Lavorano tra le 9 e le 35 ore settimanali e percepiscono compensi che oscillano tra i 300 e gli 800 euro mensili. Il punto della situazione è stato tracciato in conferenza stampa dai segretari Filcams CGL e Fisaskat Cisle. Pur consapevoli di una problematica di tipo nazionale, i sindacati parlano di una questione anche locale da cui si esce con un'assunzione seria di responsabilità da parte della politica. Davide Frigelli, Fisaskat Cisle. Queste persone praticamente subiranno un ulteriore taglio rispetto a quello già subito tre anni fa del 25% delle loro attività dove si svolge pulizia e vigilanza in ogni singolo plesso scolastico abruzzese. Queste attività sono seriamente compromesse e non è solo il problema occupazionale ma è il problema di decenza in questi plessi scolastici dove gli alunni sono in serio pericolo di condizioni di pulizia e di vigilanza. Le nostre proposte sono quelle che abbiamo già fatto sul tavolo nazionale con le organizzazioni sindacali tutte a livello nazionale dove c'è già stata una proroga di questi servizi per i mesi di gennaio e febbraio, questa proroga però sta scadendo e questi servizi con il subentro delle nuove aziende, degli appalti dovrebbero venire meno. Quindi la nostra proposta è quella di riprorogare questi finanziamenti come è stato per gennaio e febbraio per tutta la durata dell'appalto. Grazie. 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 Grazie.